Come diciamo spesso al centro del matrimonio sicuramente c'è la sposa, la sposa che deve essere in quel giorno, deve essere bella, splendida, indimenticabile. Quindi noi qui all'interno di Per Noi Spose siamo all'atelier che si chiama Glemur Sposa Chic. Siete di Barcellona? Sì, siamo di Barcellona, via Immagolata. Il nostro atelier è un atelier nuovo, ma non per questo di meno esperienza, perché io è proprio da quando si può dire sono nata che sono nell'ambito della moda, in quanto ho veramente creato il mio primo abito da sposa che avevo manco 14 anni. Ho realizzato il sogno della mia vita con questo perché per me la sposa è un sogno, la sposa è favola, la sposa è come dire il sogno di ogni donna e io spero di realizzare il sogno di ogni donna con i miei abiti. Realizzando il sogno degli altri realizza anche il suo. Bravo, sì sì, infatti mi vedo in ogni sposa, anche se giustamente ogni sposa è individuale, ogni sposa è bellissima per quello che può essere comunque lei, perché non c'è una sposa che può assomigliare a un'altra sposa. Quindi la sposa che viene da lei realizza il proprio sogno, viene con un'idea, voi avete già dato un indirizzo particolare oppure già potete realizzare tranquillamente l'idea della sposa che viene da voi? Sì, noi realizziamo l'idea della sposa in sé, però ogni sposa ha il proprio sogno, la propria idea, quindi di conseguenza ha il proprio obiettivo da raggiungere anche nell'abito, perché magari tu da piccolina sogni voglio essere una principessa, voglio essere qualsiasi cosa io voglia essere, quindi diamo anche la possibilità alle nostre spose di disegnare anche i loro abiti in maniera tale che se non trovassero malauguratamente potrebbero realizzare quella che è la loro forma precisa diciamo dell'abito e possiamo anche mandarlo in ditta e farlo realizzare per loro. Però è difficile questo perché ogni volta che vengono trovano sicuramente quello che cercano. E questo insomma vi fa onore. Allora ricordiamo dove si trova? Allora noi siamo a Barcellona, Glamour Sposa Chic, di conseguenza venite a trovarci anche perché Glamour Sposa Chic è anche cerimonia, siamo esclusivisti della Rosa Clara e quindi di conseguenza altre ditte che ora non sto qui a nominare per ovvi motivi di tempo però mi fa piacere se venite a trovarci. Ciao a tutte. Grazie.